Appassionati di macchine d'epoca e non solo, bentornati con lo stego, siamo a Caldonazzo sul lago, provincia di Trento e guardate che raduno che c'è, guardate un raduno di Lamborghini tutte con targa tedesca, una più bella dell'altra con colori eccellenti, guardate questa rossa che meravigliosa, dopo vedremo di che mezzi si tratta, questa forse ancora più bella, un rosso meno acceso, quasi arancione, ce n'è una gialla, una celeste, guardate i particolari, guardate la ruota, colore stupendo questa, forse questa è la più bella, guardate che alettone, non so dire onestamente la cilindrata, ormai neanche le conosco più obiettivamente. abbiamo una spider, quindi riusciamo a vedere anche un attimo gli interni, guardate qui che parata, come vedete tanti colori, partiamo da quella azzurra, peccato che qua non ci sono i proprietari e non possiamo chiedergli di accendercene qualcuna, guardate le dimensioni del freno a disco di questa, pazzesco, sempre in proporzione alla mia mano, il diametro del disco sarà di almeno tra i 30 ai 40 centimetri, bellissima la linea, spettacolare, questa è la ruota di quella rossa, davvero superba, bellissima, guardate che griglia, finiture al carbonio. Appassionati con queste ultime fortunate immagini, vi saluto tutti, ciao dallo Stego!